eh raga scusate non riesco a farlo non riesco a vedere il video sto dicendo quello che sto facendo prima e quello quello che sto facendo prima io dirò così io sto facendo questo video per spiegazione arriviamo 29 mila like e 17 17 17 mila iscritti lasciato due descrizione nel video questo video aggiungiamo 29 mila like 17 mila iscritti vi faccio vedere che ho fatto poi l'ho mandato questi grazie francese questo messaggio questo messaggio questo qui e questo qua guardate e questo video che sto facendo subito che è una bella cosa che sto facendo che allora la raga aggiungiamo 29 mila like e 17 mila iscritti e sto video sarebbe nuovo questo è il nuovo video che sto e l'altro sta pubblicando adesso questo è il secondo video questa è la seconda parte questa è la seconda parte l'altro non riesco a trovarlo più poi adesso ci sentiamo più avanti così ci sentiamo a settembre così non date messaggi così vi lasciato vi lasciato il mio numero di telefono così ricordate di me così chiamatemi tanto che volete così faccio un video così vi faccio un video in diretta così faccio un video in diretta poi ci vediamo al prossimo video